Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di DOM. DOM è un acronimo per Document Object Model, ovvero è un insieme di oggetti che permettono di rappresentare la struttura di un documento, normalmente HTML, che è stato caricato all'interno di un browser. Il DOM permette di andare a esplorare i contenuti del documento, ad esempio possiamo andare a recuperare quella che è una lista di elementi che stanno nel documento, possiamo modificare i contenuti del documento, ad esempio andare a modificare la classe, lo stile, quindi mettere visibile o invisibile qualche elemento, oppure alterare completamente la struttura di un documento, andare ad aggiungere o rimuovere degli elementi. Questo è un esempio di come possiamo, a partire da un documento HTML, costruire quello che è un DOM. Nello specifico, in fondo vediamo quello che è l'aspetto dell'HTML visualizzato dal nostro browser e qui sopra vediamo la struttura. Per ogni documento HTML il browser crea un oggetto di tipo document e possiamo accedere a questo documento tramite un riferimento disponibile all'interno dello spazio globale dei nomi che si chiama document, per cui qualunque script che venga eseguito all'interno di un browser avrà a disposizione questa variabile document che punta per l'appunto all'oggetto document. L'oggetto document avrà al suo interno quello che si chiama un document element, quindi document.document.element ci darà un oggetto che rappresenta l'elemento HTML, quindi sostanzialmente da qui, sostanzialmente scusate, tutto questo, l'elemento HTML contiene tutti gli altri elementi. L'elemento HTML avrà al suo interno due elementi, head e body, che corrispondono per l'appunto alle due sezioni principali. Head a sua volta avrà al suo interno un elemento title e body avrà al suo interno, nel caso specifico, un elemento H1 e un elemento section. Ovviamente a partire dal documento, visto che sono i due sotto elementi che sono più utilizzati, posso utilizzare .head e .body per accedere a questi due oggetti. Quindi l'idea è che posso andare ad avere tanti oggetti che rappresentano tutto quello che sta all'interno di un documento. Ci sono diversi tipi di elementi in questo che forma sostanzialmente un grafo dove i nodi sono gli elementi e gli archi corrispondono a una relazione di contenimento tra un elemento e altri. Abbiamo sostanzialmente tre principali tipologie di elementi o nodi all'interno di questo grafo. Elementi di tipo text, che rappresentano i frammenti di testo che compaiono nel documento. Elementi di tipo comment, che rappresentano i commenti. E poi HTML element, che sono tutti i vari elementi. Ovviamente HTML element è il tipo più generale, ci sono oggetti più specifici che vanno a rappresentare body piuttosto che title, H1 eccetera. Quindi avremo degli oggetti un po' più specifici, ciascuno con le proprie caratteristiche. Come faccio a recuperare gli elementi? Quindi la prima caratteristica del DOM è che possiamo andare a ispezionare quello che è il documento. Per ispezionare un documento bisogna recuperare gli elementi. Questi sono i metodi che io ho a disposizione all'interno dell'oggetto document per andare a recuperare elementi che sono contenuti in un documento HTML. Il primo metodo che vediamo qua si chiama getElementById e sostanzialmente permette di recuperare un elemento dato il suo identificatore. Quindi se l'elemento ha un attributo id, quello può essere utilizzato per andare a identificarlo in maniera univoca. Il secondo metodo che vediamo qua, getElementsByTagName, restituisce gli elementi che hanno un certo tipo di elemento, tipo tipo di tag. Vi faccio notare che qui c'è un getElements, quindi questo metodo non restituirà un unico elemento, ma restituirà una collezione di elementi. GetElements, di nuovo plurale, quindi tutti gli elementi che hanno un certo nome di classe, quindi che hanno una certa classe. E poi gli ultimi due metodi non selezionano, ma ci danno sostanzialmente tutti gli elementi contenuti all'interno di un elemento dato. La differenza tra i due è che Child Notes ci dà tutto quello che è contenuto, sia elementi che frammenti di testo, che eventuali commenti, mentre invece Children ci dà soltanto elementi contenuti all'interno dell'elemento dato. quando dobbiamo andare a ottenere una collezione di nodi o elementi, la nostra DOM restituisce degli oggetti che sono di tipo NodeList oppure HTML Collection. NodeList mi permette di andare a raggruppare tutti i nodi, quindi testo, elementi, commenti. Mentre invece HTML Collection è un oggetto che è pensato per contenere soltanto elementi HTML, quindi esclude sostanzialmente il testo e i commenti. E sono due tipi di oggetti restituiti rispettivamente da Child Notes e Children. Entrambe queste collezioni possono essere iterate, e quindi è possibile andare a ispezionare tutti gli elementi, basandosi su quello che è la lunghezza oppure utilizzando l'operatore quadre oppure il metodo item. Qui vediamo un esempio di come possiamo utilizzare queste collezioni in particolare. Nel primo caso utilizziamo il metodo getElementsByTagName e passiamo P e poi stampiamo il numero di elementi trovati da questo metodo. P, come ricordate, rappresenta i capoversi. Quello che vedete qui è sostanzialmente un documento HTML, quindi sostanzialmente in questa presentazione ci sono 40 capoversi. Un altro esempio, quello che vediamo qua sotto, andiamo a prendere Child Notes del secondo capoverso, tra quelli che abbiamo trovato prima, e andiamo a fare una iterazione. Vedete che qui è utilizzato il for of che va a esaminare tutti gli elementi che sono contenuti all'interno di un array o di qualunque elemento che sia iterabile. Il metodo console andrà a stampare il nome del nodo, il contenuto tagliato a 28 caratteri e dei puntini se la lunghezza è superiore a 28 caratteri. Per cui, ad esempio, il secondo capoverso, il terzo capoverso, quello con l'indice 2, all'interno di questo documento è This work is licensed under, eccetera, eccetera, e questo è un elemento, un frammento di testo. Poi ho un nodo di tipo A, che sostanzialmente linka la Creative Commons Attribution, eccetera, eccetera, e poi un altro frammento di testo che contiene sostanzialmente il punto. Gli elementi che noi abbiamo a disposizione tramite l'oggetto document sono sostanzialmente quelli che vediamo qua. Abbiamo il document element che ci permette di accedere all'elemento HTML, body, head, title, forms, che è una collezione che ci restituisce tutti gli oggetti di tipo form, links che ci restituisce tutti gli oggetti link, scripts che ci restituisce tutti gli script che sono presenti nel documento, e images che ci restituisce tutti gli elementi, tutte le immagini, ovvero gli elementi IMG che sono presenti nel documento. Oltre a ispezionare il contenuto, quello che possiamo fare è andare a creare del contenuto. Ad esempio, andando a manipolare l'attributo, la proprietà innerHTML degli elementi, per cui ad esempio se faccio un s document.create.content, che è sostanzialmente questa slide, posso andare ad aggiungere s.innerHTML più uguale p the new content slash p, che è sostanzialmente quello che vediamo aggiunto qua, che è un qualcosa che io non avevo messo inizialmente nelle slide, ma è stato generato eseguendo queste due righe di codice. Oltre a generare del codice, posso andare a modificare le proprietà degli elementi. Qui ad esempio, dato un elemento, io posso utilizzare la notazione punto, accedendo a uno qualunque delle sue proprietà. Ad esempio, se faccio s, che è l'elemento che abbiamo identificato prima, punto style, accedo alla proprietà style di questo elemento, e poi posso dire punto color uguale nevi. E infatti notate che questa slide ha come colore del testo un blu scuro, che corrisponde al colore nevi. Infine, ispezionare, alterare e creare completamente nuovi elementi. Per creare nuovi elementi lo posso fare tramite questi due metodi, che sono createElement e createTextNode. CreateElement permette di creare un nuovo elemento dato il suo tipo, ad esempio posso fare un createElementIP per creare un capoverso, createTextNode richiede il testo che dovrà essere utilizzato come frammento di testo. Questi due metodi creano dei nodi che però non sono inseriti all'interno del documento HTML, ovvero sono, completamente si dice, distaccati, detached. Devo, una volta creati, andare ad aggiungerli in una certa posizione all'interno del mio documento. E questo lo posso fare con diversi metodi. Questi sono i tre principali, non sono gli unici, ma sono i tre principali. OpenChild, che sostanzialmente viene chiamato su un elemento che è già presente all'interno del documento HTML, e aggiunge il nuovo nodo come ultimo figlio, tra quelli che sono già presenti. InsertBefore, che permette di andare ad aggiungere il nodo prima di un altro nodo che viene specificato. Questo metodo viene chiamato ovviamente su quello che è il contenitore del nodo di riferimento. E infine posso utilizzare il metodo RemoveChild per andare a eliminare un elemento che ho creato prima oppure identificato con uno dei metodi che abbiamo visto prima di ispezione. Altri due metodi che posso utilizzare sono InsertAdjudgmentHTML, che, chiamato su un elemento, può aggiungere del nuovo codice HTML specificando una specifica posizione. La posizione viene identificata dal primo parametro e il testo, che poi verrà convertito in HTML e interpretato, è il secondo parametro. Il primo parametro può essere BeforeBegin, AfterEnd, AfterBegin e BeforeEnd. Quindi, dato del testo, una stringa, io posso andare a mettere questa stringa, questo codice, prima dell'inizio del documento, alla fine, quindi dopo l'elemento, oppure al suo interno, all'inizio oppure alla fine. C'è una variante che è InsertAdjudgmentHTML in cui, invece di passare del testo una stringa, vado a passare un elemento che ho già creato ragionevolmente con gli elementi che abbiamo visto prima, quindi CreateElement oppure CreateTextNode. esempio, in questo caso io posso andare a creare un elemento, vediamo qua, con document che è l'elemente tagappend, quindi vado sostanzialmente a prendere l'elemento p che vediamo sotto, faccio un CreateElementM, quindi un elemento di enfasi, poi faccio n.openChide, quindi aggiungo all'elemento che ho appena creato un TextNode, che creo con questo CreateTextNode, i, quindi dentro l'elemento m andrò a mettere un elemento, un frammento di testo che è i, e poi faccio t, che è l'elemento che abbiamo ottenuto tramite GetElementPyID, punto appendChideN, che è l'elemento che abbiamo creato di tipo m. Quindi il risultato è che, oltre a content of paragraph, che è quello che ho definito prima, ci sarà questo elemento di tipo m che contiene i. Qui abbiamo qualche elemento in cui io vado a vedere come posso utilizzare l'InsertB4, vedete che prima cosa vado a prendere l'elemento che si chiama TagInsert, che è il capoverso sotto, poi vado a prendere l'elemento di riferimento che è il Tag di riferimento, e poi vado ad aggiungere questo TextNode, sostanzialmente prima del riferimento, e quindi tra content of e paragraph. Quindi vedete che questo de che ho creato qua, come TextNode, viene aggiunto prima di paragraph, che è l'elemento di riferimento. E questo è il modo in cui funziona l'InsertB4. Altro esempio riguardante l'InsertAdjacentHTML, abbiamo le quattro varianti, BeforeBegin, AfterBegin, BeforeEnd e AfterEnd, che sono aggiunte all'interno del contenuto che vediamo nel riquadro sottostante. Quindi vediamo che BeforeBegin è qualcosa che viene messo prima dell'elemento che stiamo considerando, AfterEnd che viene messo dopo, e AfterBegin e BeforeEnd vengono messi rispettivamente all'inizio come primo figlio e alla fine come ultimo figlio. Oltre a poter andare a manipolare il documento, tramite il DOM io posso andare a gestire quelli che sono gli eventi. Che cos'è un evento? È un qualunque cosa che avviene tra l'utente e il browser o il documento, il browser come intermediario. Gli eventi normalmente sono quelli che vengono gestiti dal browser direttamente, ad esempio a fronte di un click su un link, il browser va ad aprire una nuova pagina corrispondente all'attributo href dell'elemento che viene chiamato. In generale tutti gli elementi hanno degli attributi, le proprietà specifiche che corrispondono agli eventi. Io posso utilizzare queste proprietà per andare a specificare quelli che sono detti gli handler, ovvero delle funzioni che vengono chiamate in risposta a un particolare evento. Per cui quando io ho un elemento ottenuto in uno dei tanti modi che abbiamo visto prima, ho creato, posso andare a specificare che la sua proprietà onClick è uguale a una certa funzione che ho definito prima, oppure uguale function eccetera eccetera, quindi la posso scrivere direttamente. A questo punto, nel momento in cui andrò a fare un click su quel elemento, verrà chiamata quella funzione, quindi verrà eseguito un certo frammento di codice. Vi faccio notare che oltre a utilizzare le proprietà direttamente all'interno di codice JavaScript, io posso utilizzare le proprietà direttamente dentro l'HTML, quindi quando ho un elemento posso andare a specificare, ad esempio, la sua proprietà onClick uguale e qui vado a mettere del codice HTML che verrà eseguito. Vi faccio notare che qui io faccio una chiamata alla funzione func e qui vado a dire semplicemente che onClick è una proprietà che sarà uguale alla funzione func. e quindi c'è una leggera differenza di notazione e anche di semantica. Esempio di handler. Vado a prendere un getElementByTagName, vado a prendere qualcosa che abbia di tipo H2, i titoli di tutte queste slide sono di tipo H2, 17, che è, guarda caso, proprio il titolo di questa slide. C'è il primo titolo, poi c'è la slide iniziale, quindi questo è l'elemento 17. Cosa vado a fare? Vado a dire che questo elemento avrà come valore della proprietà onMouseOver questa funzione e come valore della proprietà onMouseOut quest'altra funzione. Cosa fanno queste due funzioni? La prima funzione mette il colore a rosso e il peso del font a normal. Come faccio a operare sull'elemento su cui viene rilevato l'evento? Sostanzialmente Java si garantisce che all'interno di questi metodi il valore speciale di is, il riferimento speciale di is, faccia riferimento proprio all'oggetto su cui viene rilevato l'evento. E effettivamente si comporta come un metodo normale. L'elemento su cui viene chiamato onMouseOver è proprio l'oggetto elemento che abbiamo recuperato tramite Great Elements by ID. Quindi this.style.color va a impostare la proprietà color della proprietà generale dell'elemento HTML che si chiama style e mette uguale a red. L'altro onMouseOut che corrisponde al mouse che esce dall'area corrispondente all'elemento mette il colore a black e il peso del font a bold. Quindi quando ho un elemento di tipo onMouseOver, ovvero il puntatore del mouse si muove sull'area che corrisponde al titolo H2, insomma il diciassettesimo all'interno di questo documento, vado a mettere il colore rosso e il peso del font normale. Quando esco dall'area, onMouseOut, metto il colore del testo a nero e lo metto di nuovo a bold. Per cui se io mi sposto e vado sul titolo, automaticamente vedete rosso e font weight normal. Quando esco torno al colore nero e al font weight bold. E quindi ogni volta che mi sposto sopra o esco fuori vengono chiamate queste due funzioni che vanno a operare sull'elemento andando a modificare alcune sue caratteristiche. In questo modo io posso avere dell'animazione complicata a piacere oppure posso utilizzare un click su un elemento per fare qualche operazione particolare senza dover per forza cliccare su un link che mi porta a un'altra pagina. Gli eventi più comuni che sono disponibili in HTML sono quelli che vediamo qua, sono quelli più utilizzati sostanzialmente. Abbiamo un click che permette di andare a intercettare l'evento di click su un elemento. Attenzione, click su qualunque elemento, non semplicemente i link. On mouse over e on mouse out che abbiamo visto prima, quando il puntatore va sopra l'elemento oppure esce. Ho un key press, quindi quando viene premuto un tasto. On change, quando ad esempio ho un area di input, di un form, e sto andando a modificare il suo contenuto. E poi on load, che sostanzialmente è quando l'elemento viene completamente caricato. Normalmente il non load si riferisce a tutta la pagina o quantomeno al body e viene utilizzato per andare a fare qualche operazione una volta che siamo sicuri che il nostro documento sia stato completamente caricato. Quindi quando io vado ad assegnare una funzione a una di queste proprietà di un elemento, automaticamente quella funzione verrà chiamata nel momento in cui viene scatenato l'evento. Oltre a quello che si chiama il documento module model, c'è un altro modello ad oggetti che si chiama BOM, ovvero browser object model. Il browser object model fa riferimento agli oggetti che compongono e costituiscono il browser. Sostanzialmente abbiamo un oggetto principale che si chiama window, che è quello che contiene una serie di proprietà. Una proprietà si chiama document, che è esattamente quella di cui abbiamo parlato prima, che è il punto di partenza del documento module model. Abbiamo una proprietà che si chiama location, abbiamo delle proprietà che si chiamano innerAid e innerWidth, che mi danno le dimensioni interne della mia area all'interno del browser. Screen, che mi dice sostanzialmente dove si trova il mio browser. E history, che mi dice tutto quello che ho visitato. Attenzione, window in realtà è l'oggetto principale e quindi tutte queste proprietà più altre che sono contenute all'interno dell'oggetto window sono in realtà immediatamente disponibili. Quindi l'oggetto window rappresenta quello che è il global context all'interno di un browser. Quindi io non devo fare window.document per accedere al documento, ma mi basta scrivere semplicemente document oppure semplicemente location. Per quanto riguarda la location, la location è un oggetto articolato, quindi non è una semplice stringa, che contiene questi principali attributi o proprietà. href, quindi l'url completo della pagina in cui ci troviamo, e poi le sue componenti, quindi hostname, protocol, pathname, quindi la parte successiva, ed eventualmente i parametri successivi di ricerca, quindi tutto quello che c'è dal punto interrogativo in avanti. Io ovviamente posso anche fare un'operazione di assegnazione a location per andare a navigare su un'altra pagina o tab. L'evento load, o meglio l'evento onload dell'oggetto window è molto utile perché mi permette di andare a verificare che tutto quanto deve essere caricato dal browser, documento HTML, le immagini contenute, eccetera, sia stato effettivamente caricato e quindi posso eseguire del codice HTML senza il timore di trovare un elemento che in realtà non è ancora disponibile, quindi undefined. Per cui quando io scrivo window.onload uguale a una certa funzione, automaticamente questa funzione verrà richiamata nel momento in cui la mia pagina è pronta e completa. E quindi a quel punto posso scrivere del codice JavaScript che va a fare delle operazioni, a sistemare, a caricare qualcos'altro, eccetera. Quindi è il punto di ingresso che mi permette di eseguire delle operazioni una volta che sono sicuro che tutto è pronto e stabilito. Il metodo window ha una serie di metodi, un metodo che si chiama open che permette di aprire una nuova URL e poi altri metodi che abbiamo già menzionato parlando dell'input app che sono alert, confirm e prompt che permettono di andare a mostrare delle finestrelle per mostrare un avviso, un dialog di conferma oppure una dialog per andare a leggere dei contenuti. Un'altra caratteristica interessante dell'oggetto window è che ha un paio di metodi, setTimeout e setInterval, che permettono di andare a definire dei timer, ovvero permettono di andare a specificare un tempo di attesa scaduto il quale viene chiamata una funzione. Infatti setTimeout sostanzialmente riceve come primo parametro una funzione che verrà chiamata allo scadere del tempo indicato dal secondo parametro, che dice quanti millisecondi devo aspettare. Il metodo setInterval è sostanzialmente analogo ma invece di chiamare una volta sola la funzione la chiama ogni tot millisecondi. ovviamente setInterval va avanti all'infinito, se io voglio posso utilizzare il metodo clearInterval per andare a terminare questo richiamo. C'è anche un metodo clearTimeout che mi permette di andare a interrompere un timeout qualora non sia già scaduto. Quindi questi metodi mi restituiscono un handle, un codice univoco, che io posso poi andare a utilizzare successivamente con clearInterval e timeout per andare a stoppare questo evento temporale. Come posso utilizzare gli eventi temporali? Ad esempio, vedete che qui ho utilizzato il metodo setInterval per chiamare una funzione ogni 10 millisecondi. La funzione che cosa fa? Va a cambiare il colore di un oggetto h che è quello che è stato identificato qua, quindi faccio un getElementByTagName, h2, quindi nuovo viene detto un titolo, lo vado a prendere il venticinquesimo e guarda caso proprio il titolo che vediamo sopra. Come funziona questa funzione? Ogni volta che viene chiamata il valore i, che corrisponde all'intensità degli elementi rosso, verde, blu del colore, viene incrementato di un certo passo. Quando i arriva a 255 il passo diventa negativo e quindi inizierà a scendere. Quando i diventa minore di zero il passo diventa positivo e quindi inizia a salire. Quindi sostanzialmente ho ogni 10 millisecondi il colore del titolo che viene aggiornato con intensità di colori che continuano a salire, quindi verso il più chiaro, e poi a un certo punto iniziano a scendere, quindi verso il più scuro. Il risultato è quello che vedete qua su in cima con il testo che ha un colore che inizia dal nero, sale verso il bianco e poi a un certo punto torna di giù, di nuovo, verso il nero. Quindi quando i vale 0, rgb000 corrisponde al nero. Quando i vale 255, questo vale 255, 255, 255, che corrisponde al colore bianco. Un paio di osservazioni sul codice che vediamo scritto qua. Vedete che la variabile i, step e h sono all'esterno di questa funzione. Perché? Perché se io le avesse definite all'interno, ogni volta verrebbero ricaricate, quindi la variabile i, da una volta all'altra, perderebbe il valore. Mentre invece io lo metto esterna e quindi sostanzialmente ogni volta che chiamo alla funzione faccio riferimento alla stessa variabile i. E quindi da una volta all'altra resta disponibile. Resta disponibile perché? Perché questa funzione fa riferimento a una variabile all'esterno della funzione stessa che quindi fa parte di quella che è una closure. Quindi i, step e h sono contenute all'interno di quella che si chiama la closure della variabile, della funzione che io passo qui al metodo setInterval. Altro dettaglio, vedete che qui ho definito una funzione senza nome che ho immediatamente chiamato. Questo è il tipico esempio di scoping function, ovvero vado a definire una funzione anonima che quindi non lascia la traccia, appena definita la chiamo, il risultato qual è? Che tutte le variabili che sono definite qua, la funzione eccetera, non andranno a essere memorizzate nello spazio di nomi globali. Quindi i, step e h non verranno messi nel contesto globale e quindi non potranno andare in contrasto con altre variabili che hanno lo stesso nome utilizzate eventualmente in altre funzioni. Questo chiude un po' la nostra panoramica sul DOM e poi anche il browser budget model. Ci sono ovviamente una serie di tutorial che potete utilizzare per andare a vedere i dettagli ulteriori, ma i metodi principali e il loro uso è quello che abbiamo visto in questa lezione.